Quando il mondo si ferma e tutto cambia all'improvviso, ci rendiamo conto di ciò che abbiamo dentro, scopriamo cose nuove, ci diamo una mano a vicenda, reinventiamo i nostri posti di lavoro, ci teniamo in forma e diventiamo creativi. Noi siamo e rimaniamo vicini l'uno all'altro, anche ai nostri clienti. Noi non ci annoiamo e se capita, invitiamo qualche amico. E anche se tutto funziona a livello digitale, gli abbracci e il calore rimangono insostituibili e qualunque cosa accada, restiamo uniti. Per questo colleghiamo la Svizzera ed è tutto per essere pronti insieme.